Da un punto di vista organizzativo questa Coppa Davis è già un successo, successo di pubblico, di organizzazione, di capacità della nostra città di farsi trovare sempre pronta e poi sempre di darci tante idee, il dibattito adesso è se smantellare immediatamente l'arena come da prescrizioni che ci sono state fatte, oppure se ci fosse un consenso fortissimo della popolazione provare a insistere e mantenere quest'arena anche per un periodo più lungo. Io penso che comunque al di là di questo Napoli ormai è una città a vocazione turistica, sportiva, culturale, siamo veramente all'avanguardia da questo punto di vista e pensare che le immagini della nostra città stanno facendo il giro del mondo in questo modo ci fa sentire veramente orgogliosi di essere napoletani.